Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, signor Zalone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482 euro. Fatti il conto a caso. Bene. Io sono riuscito a tenere per lei, se mi firma l'accessazione volontaria del rapporto, una buonuscita di 35.000 euro. Non ci credo, dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero firmerei proprio ad occhi chiusi. Andiamo. Ecco qua. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Secondo te volevo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR. Ma è del mestiere questo, no? Senta, quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15... No, 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 non si arrabbia. No, no, chi si arrabbia? Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze caccia e pesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Poi nei periodi intensi, addirittura una cosa sotto Pasqua, e dovevo usare il braccio ausiliario. Ho capito. Simpatica, simpatica. Lei questi timbri non li metterà più? No. No. Pensate, ve la mando. No, no, non me lo dire. Amo le sorprese.